Catti, apre questa porta! Catti, che c'è? Che sta succedendo? Mimmi! Che è questa gaiacca? Che c'è? Sei malata! Che è una febbre! Che c'è? Che è successo? Un genente! Che c'è? Un dottore? Un dottore, ma? No! Che c'è? Si può scoprire sapere che cazzo è successo? I'm pregnant! Jeanne! Jeanne! Puttata da stia! Che è una febbre? 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 Tu con queste mani lungo, finiscila! E' ancora la sua figlia! Che c'è? Che cosa faccio fare? Che è da buttare la tua figlia così? E che c'ha fatto? Che ci posso fare? Jeanne! Buttata! Tutti i sere che la facciamo nascere! Qu'era? 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 I tu fu? I tu fu? I tu fu? Finiscila! No! No! Papa! Sì! 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 Il c'è! Sì! Sì! Sì, è non il!!! Ma cosa stai raccontando l'Italiano? Non è simile! Lo blablare il risultato. Mi sono più raggiunto! Bolo vincere! Ma è stato una cosa. come è questo? è un figlio di Giangia Paolo? è un figlio di Giangia Paolo? è un figlio di Giangia Paolo? mio mio leva questa merda di visco leva la rufa e la facciano ammazzati schifosa, troia senta mia mi fa una malafiore disgraziata senta mia schifoso che fai una brutta morta mi senti? una brutta morta la fa un bubolo testa e minghi dove sei? potranata sei distratta del gorgia riparata tu e metto la mia gravura dai dai non piangere non ti preoccupare tutto si metto a posta non ti preoccupare 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 e tu non hai paese magari non ti preoccupare c'era un poco di rispetto ero Moscais non ti preoccupare ma però si è molto sembrata perché il picciotto è bravo cammico? non ti preoccupare 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 non ti preoccupare